ciao rita ragazzi siamo qua con rita previcini che la ragazza che ci terrà il workshop fotografico vi faccio vedere semplicemente dove siamo e il magnifico tramonto che abbiamo in diretta rita dacci due dritte sui percorsi che abbiamo visto oggi se pensi si possa sicuramente qua per il tramonto e quando scende il sole perché è magnifico e non serve dirlo perché si vede poi il percorso che sale verso le ragazze delle dame rosse dove possiamo fotografare le loro coltivazioni un po tutto lo scenario lì ma c'è anche una bella vista e la camminata proprio prevede due o tre tappe in cui c'è proprio un panorama che merita e quello potremmo farlo di giorno di sera invece ci piacerebbe fermarci dove si riesce a vedere il tramonto e iniziano magari accendersi le luci che molto suggestivo quindi è sempre consigliato il cavalletto per immortalare evitare i mossi e di non riuscire a fotografare in in fatica di luce insomma ecco e poi la passeggiata potrebbe continuare per tutta l'isola perché ha tutti degli spunti bellissimi dagli artigiani alle olive al frantoio all'olio insomma oggi abbiamo visto un sacco di cose che potremmo fare e a breve vi daremo un programma anche magari per un livello proprio base dei curiosi che vogliono scoprire l'isola e scoprire magari come fotografarla ok grazie mille ciao grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille